Mangiare a Natale non manca mai sulle tavole dei comaschi. Alla fine non è che si spendono soldi, si buttano così, si cerca di mirare proprio su prodotti di qualità, di spendere poco indispensabili però mirato. Natale a casa quest'anno per 9 italiani su 10 con una spesa media di 97 euro. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretix che evidenzia come il pranzo del 25 dicembre quest'anno sia all'insegno delle tradizioni e dei piatti del passato in compagnia di parenti e amici. Una linea condivisa anche sull'Ario, comaschi dunque alle prese con gli ultimi acquisti, dagli antipasti ai dolci, passando per i piatti pronti, scelti da chi non vuole accumulare pile di pentole in cucina. Le classiche lasagne e tantissime crespelle, come primi piatti sono quelli che vanno per la maggiore. Poi tanti antipasti, il panettone gastronomico è quello che va sempre di più perché è sempre buonissimo e tante tartine per suzzicare. Poi c'è sempre anche il dolce che quest'anno abbiamo fatto come novità, il pandoro al cioccolato con dentro le gocce di cioccolato che è andato a ruba e poi il classico tradizionale panettone. Gusti classici dunque per i comaschi che non rinunciano alla tavola imbandita ma al tempo stesso stanno sempre più attenti a prezzi e quantità. Come secondi abbiamo tutto disossato, che così tagliare le fette perché logicamente con la crisi che c'è vendo a fette quest'anno. Sì, è così. Che cosa vende a fette? Allora vendo la faraona ai porcini, poi c'è la tacchinella ai marroni, le castagne, poi ci sono gli arrosti ripieni. Più o meno uno che compra, quante fette prende? Due fette, però cosa succede? Che ci sono quelli che sono in nove e ne prendono diciotto. Quello che è uno o due, che sono delle coppiette, logicamente quattro. Generalmente diciamo a famiglia si spende su 70-80 euro. Non di più. Un po' misto tra fettato e tutto quanto, formaggi, mozzarella, tutta roba che riguarda il banco. Generalmente si prende un po' di fettati di qualità, un po' di insalata russa, patè, salmone, però si va sempre diciamo su un prodotto di alta qualità. Un po' di insalata russa, un po' di insalata russa.